Loretucci e Mariani della CRC, laureatasi questa sera campione di Serie A d'Elite 2023-2024 al termine di una cavalcata. Questa stagione è sempre avuto in pugno, solo due sconfitte stagionali, ed esimo risultato utile ottenuto quest'oggi. Quindi campioni a una giornata in anticipo. Che effetto fa finalmente potersi laureare campioni? C'è anche Bor Mercallini c'è dietro che si nasconde e non vuole parlare. Sei timido, sei timido, però ecco, vai, vai, parlate, 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 no, è felice, felice, vittoria sofferta, però alla fine penso meritata, i sacrifici per le difficoltà incontrate, per l'impegno e anche per il livello degli avversari, livello altamente qualitativo, faccio i complimenti a tutti, la squadra e a tutto lo staff, bene così. No, che dico, è stata una cosa non improvvisata, però il mio primo campionato con loro, nato per caso, perché era andato alle ricerche di sponsor, e sono entrato dentro una squadra immobiliare. Niente sponsor, però una squadra. Esatto, ho trovato squadra e che squadra e che gruppo. C'è stato un momento all'interno della stagione in cui avete pensato che effettivamente era, non dico che era fatta, ma comunque che c'erano veramente le possibilità di andare a vincere questo campionato. L'abbiamo notato anche oggi, ero terrorizzato, pensavo di aver fatto cambi in più, partita persa, non lo so, qualsiasi cosa, non manchere mai. Adesso il nuovo obiettivo sarà quindi aiutare Kalinic a provare a vincere la classifica dei canonieri nell'ultima giornata utile possibile. Prima punta attaccante che ha preso sette, otto ammolizioni nella storia del calcio, ma neanche Cantona ha preso tutte queste espulsioni. Però vabbè, vedremo, dai, quanti gol devi fare per arrivare a Kalinic? Prima dobbiamo vincere due coppie. Ah, vuole vincere due coppie. Ambizione alta. Poi pensiamo a titoli personali. Giusto. E la mentalità vincente. Vi sentite di dedicare questa stagione trionfante, trionfale, a qualcuno in particolare, a voi, in quanto gruppo squadra? Direi anche agli infortuni. A Zomenian e tutti gli altri che ci hanno abbandonato per infortuni seri. Io capisco, sto così. Quindi ricapisco, per me il primo piano va loro. Al gruppo, a tutto quello che abbiamo dato, tutte le difficoltà, le tensioni che abbiamo vestito fino alla fine. Questo, merito a noi. Grazie, complimenti. Grazie. Iuri? No, 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 lascia sta, lascia. Spongia la birra, Gessi. Se mangiasse tutti gli assist che vi faccio dalla porta, stavi 5, 6, 7 palo sotto.